Allora, noi ci rivediamo qua, no che vi do il giorno, visto che lo andate lì gratuitamente, ci vengo io, tanto ho detto che l'autobus non la voglio. Bene, bene, questo è il problema. Allora, noi parliamo, io però dobbiamo farlo con tutti gli ospedali, proprio perché questo è il problema, ce l'ho ben presente, quanto è grave la situazione dell'alternità sociale, e non ce la possiamo vedere. Quindi affrontiamo con grande serietà queste questioni, perché se io oggi dico stai tranquillo, dividi un giro, perché stavano 20 giorni dal voto, non c'è senso. Io voglio venire qui a discutere queste cose. Voi col commissario non ci avete mai parlato, vorrei parlare con il Presidente della Regione.